Dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto è costata la vita a 43 persone a Genova, la Toscana stringe ancora di più le maglie dei controlli già capillari sui 5.000 ponti e sulle 10.000 strade regionali, comunali e provinciali presenti nella regione. Lo stabilisce il protocollo, siglato a Firenze dal presidente della regione toscana Enrico Rossi, dell'Unione delle province Luca Menesini, De Anci Toscana Matteo Biffoni e dal consigliere della città metropolitana di Firenze con delega alle infrastrutture Andrea Ceccarelli. Noi passeremo in analisi tutti i ponti della Toscana, delle strade regionali, comunali e provinciali. Faremo per ciascuno di questi ponti una scheda e verificheremo lo stato della sicurezza, gli interventi da fare, quando ci dovremo ritornare a fare un monitoraggio puntuale, faremo una linea guida per un rilevamento sistematico e omogeneo su tutta la regione. Dal 2001 a oggi in Toscana sono stati investiti 1 miliardo e 200 mila euro per il monitoraggio delle infrastrutture e in particolare quelle in cemento armato. Ora il protocollo prevede la costituzione di un gruppo di lavoro che dovrà stabilire un modello con parametri omogenei per verificare ponti e strade, poi le squadre di tecnici inizieranno i rilevamenti. Ci chiediamo anche cosa fanno gli altri, in particolare ciò che non dipende direttamente dalla rete, nelle autonomie locali, regione, comune, provincia, riguardo all'ANAS, cosa sta facendo, in che stato è la situazione, cosa fa Ferrovie per quanto riguarda i suoi ponti e soprattutto cosa fa Società Autostrade per l'Italia. Abbiamo già scritto lettere, ci aspettiamo risposte. Il monitoraggio durerà qualche mese, al massimo un anno, alla fine del quale saranno stabilite le priorità degli interventi in base alla loro urgenza.